buongiorno signori si comincia oggi new entry abbiamo viaggio beach qui con il passero e il patata senza ktm problemi tecnici un altro niente di caffè mamma mia che freddo signori un po di freddo un po di frescanzana l'erba cresce alta iniziano il piede primo piedino della ktm primi problemi dato per cambiare manca pino col dino in ritardo non ci sa poco bimbi mica lo freddo e va bene è arrivato Pino è arrivato Pino solitario cosa è successo Pino? e niente Horacio è tappato è che ha capellato mi ha fatto tappo io mi sto preparando ma che devo staccare le riprese? c'è la riprese? si stacco